Per me Arezzo nel cuore, Arezzo nel cuore lo ritroviamo anche nella collezione giustamente che era la storia della mia vita e come potete vedere poi negli abiti, il primo abito in mostra c'è questo cuore, è veramente Arezzo nel cuore. Un'esposizione con la quale rende omaggio alle proprie origini, ossia la città di Arezzo. Nasce così la mostra Arezzo e Couture di Nico Thibaut Francioni, aretino di nascita e parigino d'adozione. Il comune di Parigi mi ha chiesto di fare questa mostra su Parigi e a quel punto ho deciso di fare un regalo ad Arezzo. Dico, se a Parigi mi hanno chiesto di fare questa cosa, perché no proporla ad Arezzo, visto che tutto questo viene veramente dalle mie radici e dalla città. In scena nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, sino al 10 dicembre, abiti di alta moda dello stilista aretino e fotografie di Antonio Losco. Le fotografie sono stampate su carta di cotone per creare un effetto indubbiamente suggestivo. Per l'occasione, oltre agli abiti interamente realizzati a mano e decorati da piume e tessuti nobili, sono state anche ideate quattro magliette, una per ognuno dei quartieri della giostra del Saracino, che uniscono le immagini della mostra ai colori appunto della giostra.